Buon pomeriggio, benvenuti nello spazio dedicato alle notizie sulla viabilità per questo fine settimana, circolazione sostenuta per le partenze anche in vista della festività del 25 aprile di lunedì. Spingerà molti a prolungare il periodo lontano da casa nonostante il tempo incerto. A quest'ora il traffico è intenso in uscita del grande città per i rientri pendolari al termine delle attività lavorative, vediamo, monitoriamo proprio le immagini che si sommano alle partenze per il weekend con espostamenti agevolati dalla rimozione di molti cantieri di lavoro e condizionati oggi dallo sciopero nazionale dei trasporti. Questo è il tratto capitolino della 24, vediamo invece l'area bolognese sulla 14, sul bivio della 14 di Ramo Casalecchio come vedete flussi intensi di traffico. Molti eventi in programma in questo ponte del 25 aprile e vi cito, il lunedì a Dacerra è prevista la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa della liberazione. Nel weekend in programma il Gran Premio di Imola con le qualifiche, le prove libere e domenica alle 15 il passaggio delle frecce tricolori e il via al Gran Premio di Formula 1 di automobilismo. Nella Capitale si svolgerà il 75esimo Gran Premio ciclistico della liberazione con strade chiuse e busse deviati il 24 e il 25 aprile nell'area delle Terme di Caracalla con tre gare ciclistiche. E poi vi ricordo che sia domenica che sarà caratterizzata da flussi intensi di traffico da bollino nero e lunedì anche ci sarà, per agevolare gli spostamenti, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.